Grazie a tutti. Numero 28.773 è che il candidato signor Sergio Abrano ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco numero 28.803 botti validi alle ore 20.30 del giorno 10 maggio 2012 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Nazaro il signor Sergio Abrano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.